Presidente, oggi le prime due lauree in architettura a Villa Genuardi è stata una giornata di festa. Sì, è un momento importante perché gli studi di architettura sono connaturati alla didattica che si è svolta qui ad Agrigento sin dal 1998. Il corso di laurea triennale in architettura e ambiente costruito, adesso trasformato in architettura e progetto nel costruito, è un corso di laurea che offre tanti spunti, tanti vantaggi agli studenti e soprattutto incardinano ad Agrigento una didattica, una ricerca che è specifica rispetto a tutte le cose che il patrimonio offre, il patrimonio paesaggistico, architettonico e artistico. Quindi sono contento che gli studi di questi allievi vadano avanti, si siano conclusi e si possa continuare questa strada di approfondimento per temi molto importanti per il polo territoriale universitario di Agrigento. È uno degli otto corsi disponibili per un polo che punta a crescere ancora? Sì, il polo punta a crescere e sicuramente abbiamo tanti progetti da portare avanti per sviluppare la didattica in un modo moderno e che si confà a tutte le preferenze degli studenti. Dobbiamo però cercare di sviluppare le strutture, cercare anche di trovare gli spazi idonei, perché adesso che abbiamo tanti studenti e si prefigurano tanti corsi di laurea, la città deve anche rispondere con delle strutture adeguate. Entro fine anno sarà pronta la nuova sede di Giatenea? Sì, attendiamo con ansia la conclusione dei lavori e questo sarà un momento molto importante per l'Università, l'Ateneo Palermitano e soprattutto per la sede di Agrigento, perché abbiamo finalmente uno spazio dignitoso al centro della città e credo che il dialogo con la comunità cittadina e con il territorio possa avvenire in maniera più autorevole, più centrata e più dignitosa rispetto agli obiettivi che l'Università si prefigge. Per me Agrigento è stato un luogo che mi ha dato veramente tanto per il mio percorso formativo, è qualcosa che consiglio a tutti. Venire a studiare qui è veramente una bellissima esperienza, è in un posto veramente inaspettato, meravigliosamente inaspettato. A chi dedichi questa laurea? La dedico a mio papà che oggi avrebbe fatto il compleanno. Com'è stata la tua esperienza al tuo Università di Agrigento? Positiva, molto positiva, per via dei docenti che sono abbastanza preparati. La consigli questa Università ai tuoi colleghi e ai giovani? Sì. Qual è stato l'argomento della tua tesi? L'ho fatto sul paese antico di Poggioreale, il Ruderi, che è un paese abbandonato, è stato lavoro di ridisegno e ricostruzione digitale.